Ciao a tutti amici di Sunshine Money, benvenuti e ben ritrovati. Come sempre mi raccomando prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale. Oggi andiamo a vedere questo sito chiamato DogeBuds che come dice il nome stesso ci permetterà di guadagnare Dogecoin in modo assolutamente gratuito. Il sito è veramente molto semplice da usare, basterà inserire il nostro wallet Dogecoin di FawcetPay oppure un nostro wallet Dogecoin proprietario in questa sezione e quindi premere sulla voce Claim Now per andare a reclamare i nostri Dogecoin. La buona notizia è che non c'è un prelievo minimo e che i claim praticamente di Dogecoin sono pressoché infiniti. Adesso andiamo a vedere insieme il funzionamento. Io andrò a usare FawcetPay perché mi viene comodo così, quindi andrò a inserire in questa sezione il mio wallet Dogecoin di FawcetPay e quindi cliccherò sulla voce Claim Now. Ho inserito il mio wallet Dogecoin di FawcetPay quindi adesso sono all'interno della mia dashboard che si presenta in questo modo. Posso quindi fare i miei claim e come riportato sul sito stesso, l'importo che mi sarà dato in Dogecoin da questi claim è variabile, è randomico, è casuale. Varia da un massimo di 0,1 a un minimo di 0,0001 Doge. Quindi molto semplicemente qui ci compare il nostro wallet, premendo sulla voce Claim andremo a reclamare i nostri Dogecoin. Andiamo quindi a spuntare la voce Non sono robot e premiamo su Claim. Ed ecco che in questo caso mi è stata assegnata questa quantità di Dogecoin, mi basterà riaggiornare la pagina per vederla nel mio balance. Ho quindi riaggiornato la pagina come vi dicevo ed ecco aggiornato anche il mio balance. Posso proseguire con altri claim, quindi premerò sempre sulla voce Claim, spunterò Non sono robot e quindi ancora Claim. Mi è stata in questo caso assegnata questa quantità, mi basterà riaggiornare la pagina per aggiornare anche il mio balance. E come vi dicevo ecco il mio balance aggiornato, ci proviamo anche una terza volta. Mi è stata assegnata questa quantità, anche in questo caso aggiornando la pagina vedrò il mio balance aggiornato. Proseguendo sulla nostra dashboard abbiamo anche il nostro RefLink che possiamo condividere. Andremo a guadagnare il 35% delle commissioni dei nostri Ref. È possibile per cuore anche investire in questo sito per aumentare la quantità in Dogecoin che ci sarà data per ogni claim. Io sinceramente sconsiglio vivamente di investire in piattaforme del genere e quindi di rimanere solo e solamente sul gratuito. Andiamo a vedere adesso la situazione del prelievo. Io ho fatto un po' di claim, quindi attualmente ho nel mio balance questa quantità. Molto semplicemente ci basterà andare nella sezione Withdraw. Ci comparirà questa finestra che ci dice che non c'è un minimo di prelievo per quanto riguarda Fawcett Pay, mentre per quanto riguarda un altro wallet esterno il minimo prelevabile è di 5 Dogecoin. Nel mio caso vado ad usare Fawcett Pay perché mi conviene e mi viene più comodo, quindi cliccherò sulla voce Send to Fawcett Pay e questa quantità sarà mandata appunto sul mio Fawcett Pay. Ecco questa voce in verde che appunto mi dice che questa quantità di Dogecoin è stata mandata sul mio account Fawcett Pay. Andiamo a controllare. Ed eccoli qui, è arrivata immediatamente questa quantità di Dogecoin da DogeBuds, quindi il sito è assolutamente serio e pagante. Per oggi è tutto e in chiusura come sempre vi ringrazio dalla visualizzazione e mi raccomando vi rinvito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare. Mi raccomando, like e video fanno sempre piacere, danno la forza di andare avanti e sostengono il canale. Ricordo che potete trovarmi anche sulla mia pagina library, sul canale Telegram ed infine sulla pagina Facebook. Io sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti, ciao e al prossimo appuntamento.